Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale, in apertura andiamo a Bibione per parole di cronaca e di una donna che farebbe parte di una organizzazione di rumeni pronti a rubare di fatto, a truffare le persone perché arrivano sul litorale spacciandosi per disabili, in questa occasione addirittura si spacciava per sordo muta ma a quanto pare rispondeva benissimo allo smartphone, eppure chiedeva del denaro per una fantomatica organizzazione di disabili, un odioso fatto scoperto dalla polizia locale che ha fermato la donna, per lei è arrivato anche il foglio di via, sentite cosa è successo nel servizio di apertura del telegiornale. Si fingeva sordo muta per spillare soldi ai turisti di Bibione, arriva il foglio di via per una donna rumena, sul litorale aveva trovato un escamotage per fare soldi facili, tra l'altro puntando proprio sul buon cuore dei turisti, una 38enne è stata smascherata, già perché non aveva fatto i conti con gli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est, che proprio questa estate si sono ritrovati a fronteggiare questo nuovo tipo di problema, tra l'altro nemmeno tanto isolato. Sulle vie centrali di Bibione, soprattutto di sera, quando il centro si affollava, arrivava la 38enne che si finceva disabile per far vreccia sul cuore dei vacanzieri, si era fita sordo muta, tanto da spacciarsi apertamente ad un'associazione appartenente ad un'associazione di volontariato inesistente per rintrascare i soldi. Gli agenti in borghese impegnati nel controllo selare del litorale si sono insospettiti quando hanno visto la doccia per dei casi analoghi scoperti a Bibione durante l'estate, così hanno tenuto d'occhio la rumena che rispondeva tranquillamente allo smartphone. La di la donna è stata fermata e quindi denunciata per la truffa. Non solo perché dovrà dimenticarsi Bibione per tre anni se non vorrà incorrere nei nuovi guai. Non potrà infatti mettere i piedi per tre anni nel territorio di San Michele a Tagliamento, dopo che l'è stato notificato il provvedimento emesso dalla questura di Venezia con tanto di foglio di via obbligatorio per l'accattonaggio molesto. Gli agenti diretti da William e Cremasco sospettano che, dietro al fastidioso raggiro vi sia un'organizzazione ben consolidata, che l'estate arriva sul litorale veneziano per fare soldi. A ferragosto erano stati fermati altri due rumeni che, sempre con lo stesso meccanismo, si intascavano del denaro facile. I rumeni che poi sono stati identificati anche a Caor e Iesolo. E intanto il sindaco di San Michele a Tagliamento, Pasqualino Codognotto, si dice soddisfatto per l'operazione. È doveroso ringraziare i nostri agenti per il lavoro svolto e per il loro impegno a tutelare i vacanzieri, ha ribadito Codognotto. Grazie anche al questore per la collaborazione, la disponibilità e l'accelerità nell'emettere un provvedimento che va a vantaggio di una località rinomata e altamente frequentata come la spiaggia di Bibione. Si torna a parlare della mafia nel nord-est, in particolare a Eraclea dopo l'arresto a gennaio del sindaco di altre 49 persone, 50 persone complessivamente arrestate per le agevolazioni di fatto del clan dei Casalesi, secondo le accuse. Ci sono però altri tre mesi di indagini che sono state chieste per completare questa operazione. Sentite. Proroga concessa. La commissione di indagine ministeriale continuerà a indagare tra gli uffici del Comune fino al prossimo 7 novembre. Si tratta della commissione presieduta dal vice prefetto Piera Bumma, già commissario prefettizio al Comune di Caorle nel 2015 e composta da Domenico Frustagli, tenente colonnello della Guardia di Finanza, Riccardo Sommariva, vicequestore aggiunto della Questura di Venezia. A lavoro dallo scorso maggio, passati i primi tre mesi, la commissione ha chiesto e ottenuto una proroga di altri tre mesi per continuare la propria attività e se il Comune venisse alla fine sciolto per mafia si tornerebbe alle urne solo tra più di due anni. Sotto la lente di ingrandimento è finito una miriade di atti della giunta dell'ex sindaco di Araclea Mirko Mestre, arrestato lo scorso 19 febbraio e ai domiciliari dallo scorso 7 giugno, nell'ambito di un'indagine della DDA su infiltrazioni e favori al clan dei Casalesi, che ha portato all'arresto di una totale di 50 persone. E da questo terremoto giudiziario il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha nominato la commissione di indagine, che oltre agli atti dell'ultima amministrazione, sta vagliando anche quelle delle giunte precedenti, con un salto all'indietto di circa 20 anni. Di fatto un lavoro immane, tanto da richiedere la proroga alle indagini che si concluderanno solo in autunno e inoltrato. Dopodiché, in base ai risultati ottenuti, il prefetto avrà a disposizione 45 giorni per preparare la relazione finale da inviare al Ministero dell'Interno e per Natale si conoscerà una volta per tutte il destino di Araclea. Sulla base dei riscontri ottenuti al Presidente della Repubblica, aspetterà infatti la decisione finale, ovvero se sciogliere il Comune per mafia. Un'eventualità che, se venisse davvero tradotta in pratica, rappresenterebbe la prima volta per il Veneto, con l'aggravante del rinvio delle elezioni amministrative, visto che di fronte allo scioglimento per mafia il Comune verrebbe amministrato per due anni da una nuova commissione, composta da tre commissari, tutti provenienti da fuori provincia. Nell'ipotesi contrario, ovvero se le indagini della commissione dovessero essere archiviate e Araclea potrebbe inviare e invece tornare al voto già nella prossima primavera assieme agli altri Comuni, è arrivata la scadenza naturale del loro mandato. Sappiamo che è stata concessa la proroga, commenta il commissario straordinario Giuseppe Vivola. Nel momento non possiamo che attendere con fiducia la conclusione del lavoro della commissione. Il clima e il municipio è sereno, tutti i dipendenti sono messi a completa disposizione della commissione che sta svolgendo i propri accertamenti. A Caorle, sul litorale, ad una verde, un uomo, un quarantenne tedesco è annegato, stava per annegare, è stato portato a riba dall'addetto al salvataggio che lo ha rianimato, tanto che gli operatori sanitari del 118 l'hanno poi trasferito in ospedale a San Donato di Piave dove di fatto era fuori pericolo di vita. Sentite. Ha rischiato grosso mentre era in mare sul litorale di Caorle, salvato in extremis dalla allargamento, un vacanziere quarantenne. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di San Donato di Piave ma il peggio, a quanto pare, è passato. Deve la vita al bagnino che ieri pomeriggio si è attivato immediatamente per sottoporre alla manovra di rianimazione salvandogli dunque la vita. È accaduto nel pomeriggio di ieri verso le 15 sul litorale antistante ed una verde. L'uomo aveva deciso di fare il bagno quando all'improvviso è stato colto da malore bevendo dell'acqua. Ad accordersi di quanto stava accadendo è stato lo stesso, addetto al salvataggio, che si è prontamente attivato. Portato a riva il bagnante lo ha sottoposto alla rianimazione, mentre la richiesta di soccorso ha permesso di attevare la procedura di emergenza. Dal SUEM si stavano già preparando per far alzare in volo anche l'elicottero. Tempestivo l'arrivo ad una verde dell'equipe sanitaria con l'ambulanza della Castelmonte che ha dislocato i mezzi sia a Caorle che nell'attiva Eraclea. La rianimazione del bagnino e il lavoro dei sanitari ha permesso di salvare il quarantenne, un turista tedesco, tanto che non è servito nemmeno l'intervento dell'elicottero. Il paziente è stato poi trasferito all'ospedale di Sant'Anna di Piave dove è stato accolto in pronto soccorso. Le sue conduzioni fortunatamente non sono gravi. deve la vita al bagnino, che lo ha rianimato. Cambiamo pagina e parliamo di prodotti tipici del territorio, quelli del Veneto, che arrivano direttamente sulla litorale per farli scoprire ai nostri vacanzieri. Presidente, occasione è quella di oggi con i balneari per promuovere le tipicità locali a livello regionale. Com'è la situazione? Quanti sono i prodotti da valorizzare a livello regionale Veneto? La situazione è un'opportunità sicuramente che noi abbiamo accolto con piacere, visto che comunque è stata patrocinata anche da parte del Ministero e quindi questo binomio agricoltura, turismo, è un binomio che oggi crediamo abbia una potenzialità immensa. Se pensiamo solo al Veneto, quali sono i prodotti? Molti prodotti d'eccellenza, dall'ortofrutta al vino, a quelle che possono essere poi anche le carni, i formaggi, quindi molto da dare, molto da dire in un ambito che sicuramente avrà successo, perché oggi il turista cittadino chiede un prodotto salure, chiede un prodotto di qualità e quindi questa è un'occasione per poter far conoscere anche al turista in spiaggia quelle che possono essere le nostre eccellenze. Occasione questa anche per approfondire con i produttori stessi quali sono le particolarità dei prodotti che oggi avete portato qui in spiaggia. Sì, noi oggi abbiamo portato in spiaggia vari prodotti, prodotti che i nostri produttori producono all'interno delle loro aziende e quindi la possibilità di farli conoscere ulteriormente già con un canale ulteriore a quelli che già i nostri agricoltori dispongono era un'occasione da non perdere. Presidente, quali prodotti tipici del territorio veneziano ha potuto degustare oggi la gente che ha partecipato a questa iniziativa? L'iniziativa intanto si espressa lungo tutta la costa qui del Veneto, quindi da Eraclea qui a Iesolo fino a Rosolina. I prodotti sono i prodotti proprio del territorio, quindi prodotti autofrutticoli, vino e formaggi proprio che sono delle nostre aziende del territorio. Com'è il rapporto tra le aziende del territorio e proprio gli utenti, i fruitori di questi prodotti? Ovvio che il territorio produce beni di altissima qualità ed è giusto che iniziative come queste che mettono d'accordo il turismo in genere, che molto spesso il turista conosce molto marginalmente la realtà agricola della zona, è proprio per esprimere quello che è la forza della nostra produzione agricola per alcuni prodotti sicuramente di altissimo livello. Alcune cose dal mio punto di vista si mangiano solo in Italia e quindi alcuni prodotti gli stranieri li gustano in questa zona ma in generale in tutta Italia con molto molto piacere spesso fanno scorta e ce li portano a casa, quindi questo è un segnale della capacità produttiva nostra ma proprio anche del livello qualitativo dei nostri prodotti. Andiamo da Nonne Veneto adesso con il vice sindaco che per questo weekend, questo venerdì, ha organizzato un incontro per parlare di Alzheimer e di demenza senile, di fatto una serata in cui si potrà scoprire e capire la demenza senile. L'ha intervistata il vice sindaco, il nostro Aldo Curtarelli, sentiamo. Siamo in compagnia di Nicoletta Bondi, lei è vice sindaco di Annone Veneto e anche assessore ai servizi sociali e alle politiche della famiglia, immagino, eccetera. Ecco, venerdì 6 settembre alle 20.30 presso il centro civico di Annone Veneto voi fate un incontro dal titolo Sente Mente, un problema dell'Alzheimer e della demenza senile, in pratica cercate di parlare di questo problema. Lei adesso, assessore, ha il modo di spiegare in cosa consiste questo convegno? Guardi, in breve le dico che tutto è nato da un incontro che abbiamo avuto con la signora Rizzi, che è la presidente dell'associazione Ulderico Malzari dei nostri anziani Annone Veneto, che ci ha proposto la possibilità, in concerto con il Comune, di portare avanti questo progetto sull'Alzheimer e la demenza senile. Non è altro che un progetto finalizzato a riscoprire quella che è la cattiveria che ha questa malattia nei confronti delle persone che ne soffrono e di tramutarla in qualcosa di positivo e piacevole e quindi trovare il bello nel male che affligge queste persone. Questo incontro verrà fatto venerdì questo alle 20.30 in centro civico, ci sarà il sindaco, ci saranno vari esponenti comunali, la nostra amministrazione. È un progetto estremamente ampio perché non prevede solo gli anziani, le famiglie interessate e l'amministrazione comunale, ma stiamo cercando con una serie di lettere inviate sia alle ULS del territorio del Veneto orientale, sia ai nostri commercianti, sia alle forze dell'ordine, di portare questo disturbo di queste persone a conoscenza della maggior parte di quelli che frequentano il nostro territorio. Quindi cerchiamo tutti quanti insieme di creare un tessuto positivo affinché queste vivano in maniera serena. Ecco, lei come assessore ai servizi sociali, ha in mente qualche altre iniziative? Cosa avete così in cantiere a None Veneto? Guardi, domani mattina partirà proprio lo sportello per la ludopatia. Come è venuto fuori oggi dai giornali siamo 19 comuni del Veneto orientale che hanno derito a questa iniziativa che viene pagata interamente da dei fondi della Regione Veneto proprio contro la ludopatia. Apriamo domani mattina dalle 9 alle 10 a uno sportello che abbiamo vicino alla biblioteca comunale che a me piace chiamare punto benessere perché adesso cercheremo di coinvolgere in questo ambiente oltre all'Avis, al pediatra eccetera, tutto quello che concerne comunque il sociale e quindi domani ci sarà questa novità, questa apertura che spero venga presa in ottima considerazione dai nostri cittadini. La ludopatia è purtroppo una brutta cosa e intanto un passetto alla volta iniziamo così e poi vedremo di migliorare. Ecco lei ha 5 anni davanti visto che è stata Enoeletta, di questi problemati che purtroppo nelle amministrazioni comunali non solo a Danone e Veneto ma un po' su tutti i paesi sono dei problemi che voi dovete affrontare perché ci sono problemi semplici ma a volte anche abbastanza complicati. Beh intanto gli faccio i migliori auguri perché non è come fare una strada o fare una festa a cui si tratta di curare, di stare vicino a delle persone che non hanno dei problemi. Questo è quello che contraddistingue questa amministrazione di stare vicino al cittadino, in mezzo al cittadino e in territorio costantemente, quindi siamo un'amministrazione di destra vicini agli anonesi, questo è quello che ci darà manforte e ci aiuterà nei prossimi 5 anni ecco. Grazie. Grazie a voi, grazie. E adesso gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna per Foto Reporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e grazie a voi tutti per aver scelto l'informazione del Veneto orientale, questi servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci ritroveremo con le altre news e rimanete con noi a risentirci. Alla prossima.